Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di penne o sedani rigati Passata di pomodoro Origano Parmigiano grattugiato Olio Preparazione Ponete in una terrina la passata di pomodoro Salate e pepate Aggiungete l'origano e l'olio d'oliva crudo e amalgamate con la forchetta Cuocete la pasta in acqua salata Poi versatela nel sugo Cospargete abbondantemente di parmigiano Il piatto è pronto Buon appetito!